Buongiorno a tutti conferenza pre gara di Taranto Latina che chiude il girone d'andata ovviamente c'è mister Capuano a vostra disposizione come sempre iniziamo da Antenna Sud. Mister mi permetta di essere più banale del solito è la partita di Natale una partita in cui sicuramente tutto il gruppo tiene a fare gli auguri a questa città e a questa tifoseria nel migliore dei modi. Ma approfitto anch'io per fare buon Natale, buone feste a tutti come mia consuetudine di solito le feste sono belle per noi però io penso sempre alla gente che soffre proprio ieri noi siamo stati presenti nell'ospedale ringrazio ancora il primario che ci ha invitato a rendere omaggio a questi bambini a cui abbiamo donato una maglia con la numero dieci perché riteniamo che la numero dieci sia il giocatore di più estro, di più fantasia e quindi abbiamo regalato al primario la numero dieci perché lui è un fenomeno e deve fare uscire questi bimbi come ieri sera ci siamo recati a Paolo VI dove abbiamo regalato un piccolo gesto di giocattolino a questi bimbi che ne hanno bisogno ecco noi la mia filosofia di vita è questa è stata e sarà sempre questa e quindi io in questo momento come Taranto Calcio auguro il meglio a tutte le famiglie tarantine e di tutta l'Italia di tutta l'Europa di tutto il mondo perché siano delle feste belle belle per tutti per quando concerne il calcio è normale che noi domani si cerca l'ennesima impresa vogliamo chiudere nel migliore dei modi una classifica un campionato che nessuno avrebbe pensato che a una giornata alla fine potessimo godere di questa classifica fatta di sacrificio di grande fase abnegativa di programmazione da parte della società ma il gran merito è di questi ragazzi che quotidianamente danno la massima disponibilità per ottenere questi risultati quindi è inutile dirlo noi domani vogliamo regalarci un sogno ma soprattutto vogliamo regalare attraverso un risultato importante perché ci sarà tanta gente domani sera allo stadio un sorriso una vittoria al nostro pubblico luigi guerri rezzetto lo sport chiaro che il pari di avellino vi ha dato molta autostima autostima no perché questo tipo di partite con questo tipo di avversario avete fatto avete avuto qualche problema in passato tipo benevento casertana rivestate quindi il pareggio di avellino anche per voi credo che sia stata una bella risposta come ci arriva a questa partita del taranto contro una squadra comunque ostica come la team ma noi si è sbagliato qualche partita perché con la USA non mi sembra che abbiamo fatto male anzi secondo me con la USA abbiamo fatto una ottima prestazione con la casertana sono d'accordo è stata una prestazione io dico priva di mordente priva di significati agonistici qualche altra l'abbiamo sbagliata sicuramente ma tanti altri abbiamo fatto benissimo noi ci si arriva bene si arriva bene con molti acciaccati con qualcuno che non sarà nemmeno convocato contro una squadra che fa paura fuori casa il latino è una squadra che ti riparte benissimo che a tutti i giocatori di gamba eh se non lavori benissimo sulle preventive ti fa male è una buona squadra perché lo dice anche la classifica costruita molto bene da Matteo Patti ed allenata da un ragazzo che io conosco molto bene un ragazzo capace parlo di di donato ma soprattutto poi ha dei giocatori forti che nel momento in cui gli dai lo spazio gli dai il campo la linea cosiddetta alle spalle ti distruggono quindi noi dobbiamo essere bravissimi a non concedere queste fasi a Latina dove dove è molto molto bravo però penso che ci abbiamo lavorato anche se i giorni a disposizione non sono stati tanti e quindi speriamo di aver trovato le giuste contromisure sappiamo che è una partita difficile ma abbiamo grandi possibilità di portare a casa l'intero l'intero risultato abbiamo le qualità abbiamo l'entusiasmo abbiamo la capacità fermo restando che giochiamo contro una buona squadra ottimo squadra buongiorno mister Francesco Leggeri Taras tv box Tarentum ehm io sono stato al mercato io dico stamattina come lei magari eh sa ai tamburi c'è molta euforia anzi forse troppa devo dire che più di qualcuno mi ha fermato per stare per dire noi dovevamo vincere l'avellino aveva preparata troppo bene il mister cresce l'euforia quindi nel pubblico tarantino non dimembriamo Avellino perché Avellino è successo un qualcosa che io nel calcio ne ho viste di tutto e in tutto a volte mi è stato anche regalato qualche rigore in una carriera eh qualche episodio a favore tantissimi sfavorevoli ma quello che ho visto domenica da Avellino nulla non c'entra nulla l'avellino eh nella maniera più assoluta non mi è mai capitato un arbitro che da 60 metri fa segno di continuare e poi eh mentre stiamo facendo gol fischia e la punizione viene battuta in aria e non eventualmente dove c'era quindi ne ho viste di tutti questa mi mancava probabilmente nel calcio esiste il lamento il lamento della settimana prima il lamento del giorno prima l'avevamo detto io potrei fare un elenco illimitato mi auguro soltanto che l'arbitro di domani sia sereno glielo auguro anche io perché è un ottimo arbitro come lo era come lo è colui il quale ci ha allenato ad Avellino che devo dire che ci ha arbitrato ad Avellino forse noi siamo sfortunati però quello che mi è capitato ad Avellino non l'avevo mai visto fino adesso su di un campo di calcio non l'avevo mai probabilmente lui era convinto che c'era la barra sicuramente posso giustificare solo in questo modo diciamo che ha arbitrato una partita di serie B però lasciamo stare e andiamo avanti va bene mister comunque il pubblico la saluto a quelli che ho incontrato stamattina tanti e si aspettano un buon risultato è inutile che glielo dico ci si aspetta la vittoria come ce l'aspettiamo noi ma non è facile salve mister buongiorno 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 due considerazioni direi che le partite prima della sosta e dopo la sosta sono delle partite particolari dal punto di vista mentale no si dice sempre che magari i giocatori possono avere già la testa di vacanze quindi da quel punto di vista come l'hai vista la squadra se sei preoccupato e poi un'altra considerazione hai detto bene tu questa è una squadra che ha fatto tantissimi punti in trasferta ha vinto a foggia ha vinto a messina ha vinto d'avellino ha fermato in casa comunque alla casertana ha perso solo di misura a castellano di stabile quindi è una squadra rognosa ostica allora l'ultima partita da quello che io ho visto con le grandi squadre loro si sono sempre messi con il tre cinque due mentre in altre partite hanno giocato dal punto di vista tattico un po' diverso quindi ti aspetti un tre cinque due e noi rispondiamo sempre con il nostro tre cinque due che comunque al di là come sempre detto te non è tanto il modulo però è importante comunque avere sempre l'uomo al centrocampo in questo ultimo periodo e di questo voglio parlare anche di un giocatore che forse è stato un po' criticato però quando ho messo nel suo ruolo secondo me di interno di centrocampo parlo di romano ha fatto sempre bene è uno che accompagna l'azione si inserisce bene ci attiro insomma e parlando anche della partita in generale dei quinti sei soddisfatto? Sono troppe domande che noi le dimentico se me le dai a una alla volta te le rispondo dal punto di vista mentale prima allora eh quello che del ah bravo questa è una gran domanda io però sono un martello sì le partite prima di Natale e di Pasqua sono particolari perché si pensa alla valigia dove prendere l'aereo dove rientrare a che ora c'è il treno l'amorosa che devi andare a prendere tutto vero tutto vero sono le partite che fanno paura però penso che di avere l'esperienza e di essere abbastanza capace nel gestire poi nella mente nell'immediatezza non ci vuoi entrare però hai detto una cosa giustissima e questa è la mia paura questa è la mia più paura no ma è la mia più grande preoccupazione prima di una gara perché faccio questo mestiere da tanti anni eh poi la sera devi partire poi c'è l'aereo poi c'è lo zio poi c'è la figlia poi c'è ma questo succede a tutte le squadre ma che succede al staranno succede a tutte io spero di averglielo fatto capire mh questo questa è la cosa che in questo momento mi preoccupa di più più questo l'aspetto mentale che è della partita con grande onestà la seconda domanda sì eh latina fortissimi trasferta ti aspetti che vengono a giocare col 352 allora l'ultima trasferta che hanno fatto attore a no collegamento hanno giocato in casa a torre del greco hanno giocato tre quattro due uno tre quattro tre li hanno presi altissimi col benevento si sono difesi nella propria metà campo e hanno giocato tre cinque due quindi io quello che fanno loro non lo so io posso sapere quello che faccio io a secondo se loro mi aspettano o mi aggrediscono altri è normale che noi abbiamo preparato due partite ehm sia se loro dovessero venire con i due tre quarti più la punta sia se dovessero venire con una punta un sottopunto con due punte piatte adesso non so perché poi dipende chi gioca se gioca Mastroianni e Fella magari hanno caratteristiche se si gioca Mastroianni che dire e Fabrizia hanno caratteristiche diverse anche se la struttura è la stessa io so quello che faccio io e non so quello che faranno loro sicuramente noi l'abbiamo preparata in tutte e due le maniere a secondo quale sarà il loro atteggiamento è vero mh per esempio col benevento io ho visto la gara hanno fatto una gara a la potevano perdere ma la potevano anche vincere eh voglio dire hanno concesso la fase di palleggio continua al benevento però quanto poi ripartivano facevano male voglio dire quindi non so quello che faranno per esempio a Torre Greco li prendevano alti io non so quello che come hanno preparato la partita magari lo sapessi però sicuramente noi siamo in grado di ottemperare alle due situazioni di gioco che loro faranno sul Romano intero centrocampo che sta facendo molto bene quando lo metti in quel ruolo molte volte il giocatore da quinto a destra l'hai cambiato subito perché non faceva bene forse non è il ruolo suo addirittura con la casertana però lo hai spiegato dal punto di vista tattico l'hai fatto giocare altro però la casertana con la casertana non ci ha capito un cazzo lo hai spiegato lo hai spiegato allora Romano è uno che gode della mia fiducia l'ho riconfermato quindi di che stiamo parlando quindi è un giocatore normale che se gioca nel suo ruolo lui è un incursore non un incursore incursore lui è bravo nell'inserirsi è uno bravo a far legna è un giocatore di grandi applicazioni di grandi abnegazioni che tanti allenatori vorrebbero avere è normale quanto lo metti in un ruolo non diverso nel fare dei compiti diversi è normale che fa fatica ma questo succede a tutti è normale che io a volte l'ho provato anche a fare il quinto perché lui ha una discreta gamba ok quindi pensavo che potesse far bene con la casertana lasciamo stare perché ripeto non ci ha capito nulla chiedo scusa che prima ho detto ci ha capito un cazzo lui doveva andare su proietti e poi doveva allargarsi quando venire largo a sinistra nel momento in cui giravano palla invece lui rimaneva uomo su uomo e loro ci palleggiavano in faccia a destra questo mi sembra che l'abbiamo anche spiegato magari sarà stato anche nel ruolo mio nella maniera più assoluta perché mi sono fidato tatticamente che potesse far ciò Romano non so chi è che l'ha criticato Romano gode della mia totale stima è importante che il giocatore goda della mia stima io penso che ogni giocatore gli interessi di godere della stima dell'allenatore poi ci sono giocatori allenatori che vanno soggetti a critica e bisogna stare zitto l'altra considerazione sui quinti se sei soddisfatto stanno facendo molto bene la fase difensiva però quando offendono creano anche molta pericolosità ecco devono essere più coraggiosi di più di tutti è Ferrara ok così lo dico eh gli ho detto anche nello spogliatore perché qualcuno poteva pensare dopo quello io penso che ancora una volta ho dimostrato di saper gestire l'essere umano non il giocatore perché dopo tanti anni chi fa lo stesso mestiere ti porta alla gestione perché poi nel calcio è è l'azienda più difficile da gestire perché poi quando entri davanti a 30 40 persone non diventa facile io penso che ancora una volta ho dimostrato non l'ho mai detto di saper gestire l'essere umano è importante non la gestione del giocatore la gestione dell'essere umano se te mi dici chi è all'esterno in goderso momento che ti sta dando più soddisfazione Ferrara ha commesso degli errori eh però poi sugli errori lui è stato bravo a a non commetterli per esempio l'errore clamoroso che lui fa a a Sorrento ma anche l'errore del gol del Potenza quando non chiude la diagonale d'ingresso sulla figura domenica ci ha salvato gol l'altra domenica ha chiuso e non si è preso gol quindi un alleatore che vede questo vede che il giocatore lo segue è un giocatore diligente quindi se mi chiedi lui in questo momento se mi chiedi gli esterni chi sei il più contento Ferrara ma anche gli altri stanno facendo bene però se te mi chiedi io rispondo sempre con estrema schiettezza salve mister Alessandra Carpino Taranto buonasera giornale rosso blu anche io distribuisco le domande me le faccia dottoressa perché io sono un po' vecchietto una alla volta due alla volta se me ne fa sette poi magari sembro ingeneroso di dimenticarne qualcuno sì 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 allora vado sulla stessa linea di pensiero del collega e ecco mister a livello di caratteristiche di peculiarità di offerta del calcio che le vuole a questo Taranto prima a centrocampo questa alternanza anche che si sta creando tra Fiorani con giovane del quale ha molta stima e l'ha ribadito più volte e Zonta che aveva detto stava crescendo e si stava capuanizzando questa è la prima per quanto concerne il centrocampo allora io allora premetto che i giocatori li ho scelti io la squadra l'ha fatta gioca eh così magari chiariamo perché qui bisogna stare attenti anche a parlare e io ho fatto una rosa profonda quindi che vuol dire che non ho preso bidoni ho preso tutti i giocatori bravi altrimenti non sarebbero venuti a Taranto quindi ortesie non sarebbero fatti a nessuno quindi gioca uno gioca l'altro a secondo di come t'alleni in settimana a secondo se hai qualche problema perché voi altri non sapete mia se uno si è allenato quattro giorni se uno si è allenato sette giorni se uno ha avuto qualche problemino non lo sapete no? Poi molto per le caratteristiche dell'avversario è normale tu vai ad Avellino ok così lo spieghiamo perché la gente ci ascolta vedo che quando fate la conferenza stampa del Taranto vedo io non vedo nulla però mi dice il buon Cosimo Lenti che ce lo teniamo stretto stretto perché è bravo ed è tifoso del Taranto che ci sono tutti questi numeri notevoli allora chi ci ascolta lo facciamo anche divertire cioè gli diciamo anche qualcosa di calcio vai ad Avellino loro giovano tre cinque due con due mezzali di inserimento Armellino e D'Angelo che ti possono creare continuamente la super come ce l'hanno creata la superiore della numerica perché ti attacca in verticale allora fai una scelta di giocare con due giocatori così lo spieghiamo a tutti perché quella partita gioca Capuano e quell'altra gioca Eziolino lo spieghiamo normale che vai a giocare con due più di incontro e magari Zonda che ha leggermente più qualità non lo metti allora giochi con Fiorani e Romano che sono due giocatori più di distruzione poi magari giochi contro una squadra che ha a centrocampo gente che palleggia oppure giovano a due allora fai delle scelte diverse dipende come ho sempre detto dal primo giorno che ho avuto l'onore e il piacere di allenare il Taranto che tante scelte vengan fatte a secondo le caratteristiche e la struttura dell'avversario andiamo avanti la seconda la seconda invece ci spostiamo un attimo in attacco mister una sua visione generale su quelle che sono sempre le caratteristiche in questo momento che può garantire la sua batteria offensiva e l'imprevedibilità che può dare la gestione soprattutto l'abbiamo visto nell'inserimento che può dare anche più vivacità di un fabbro o di un bifulco che comunque è stato fermo tre settimane e anche di Orlando che magari stiamo vedendo un po' più col contagocce forse anche per motivi fisici. Allora anche lì noi abbiamo giocatori con caratteristiche totalmente diverse anche lì ad Avellino se l'arbitro non impazzisce penso che non ho detto nulla non impazzisce oppure involontariamente non fischia si diceva Cavuano è un fenomeno doppia sostituzione largo bifulco dentro fabbro ha insegnato assist e gol cosa voglio dire che c'è sempre una fase di lettura noi siamo partiti ad Avellino con Cianci e Canutè vicino e abbiamo finito una partita con due punte d'attacco di profondità giusto o meglio con bifulco che c'ha anche attacco di profondità molto più bravo nell'allargarsi e fabbro che quanto parte sta bene t'ammazza quindi si hanno giocatori anche davanti con caratteristiche diverse in base a quello che tu vuoi ottenere quindi mi riallaccio anche al discorso che ho fatto con i centrovampisti quindi noi abbiamo una diversificazione di qualità di giocatori che poi possiamo sfruttare durante l'interpretazione che andiamo che andiamo a fare perché ripeto se l'arbitro non lo so non lo so perché poi quando ci ho parlato a fine partita era un ragazzo eccezionale aveva anche difficoltà se lei pensa che mi ha detto che era fuori gioco e guarda io diceva come fuori gioco cioè quindi siamo sulla luna sul luna park voglio dire se lei pensa se l'abbia non fischia se fatto gol con due subentranti allora voglio dire però l'altra domanda è lo stato di salute di recupero di orlando che abbiamo visto ma orlando lo dico per la duemillesima volta orlando è il giocatore di qualità più forte che ha il taranto nelle qualità intrinseche del calciatore e il più forte orlando purtroppo ne viene da ne veniva e ne viene da un periodo di inattività ha avuto qualche problemino che sta recuperando si è fatto male nel suo miglior momento e quindi è stato fermo venti giorni un mese poi dottoressa ci sono anche c'è un obiettivo l'obiettivo è il taranto se una squadra sta facendo bene e ci sono caratteristiche diverse e non penso che un alatore può impazzire per coinvolgere un giocatore seppur bravo per dargli il contentino io questo non so fare io 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 guardo il risultato metto in campo eh chi in quel momento anche undici difensori o undici attaccanti se sono convinto che con quella struttura con quei giocatori posso ottenere il risultato fermo l'essanto lo dico per la duemillesima volta se lei mi chiede secondo te chi è il giocatore più bravo nell'intrinseco della qualità orlando tutta la vita però poi bisogna vedere come sta il giocatore che problemi ha avuto come si allena come sono i test come è la forza iniziale tante cose prego ciao ciao aizio sono Luca buongiorno Luca allora il Latina sta disputando un campionato di scritto era partito ottimo tu hai giustamente evidenziato la difficoltà della gara e del valore dell'avversario martedì sera hai rivolto l'appello al popolo rosso blu a trentadue ore dal calcio d'inizio penso che lo rinnoverai di nuovo formazione tre quattro tre o tre cinque due allora per quanto concerne l'appello io sono confinto che domani sera sarà una bolgia sarà una bolgia per due motivi importanti e lo dico subito il primo perché lo merita la squadra e bisogna onorare questi ragazzi per quello che hanno fatto fino a questo momento lo meritano tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano nel taranto calcio ma soprattutto lo merita la gente che dopo tanti anni sta riacquistando l'appartenenza di taranto città a taranto calcistiche quindi penso che domani sia l'apoteosi poi come gioco domani Luca ma te lo posso mai dire in questo momento a te che ci senta eh ok vedo ma io adesso dovrei dire bla 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 e salire sui punti invece di non ti posso rispondere fratello mio eh sai perché non ti posso rispondere perché se ti dico gioco 4 4 2 ascoltami e domani gioco 8 8 3 guarda che pagliaccio se invece ti dico la verità mi portano a Montelupo Fiorentino e allora siccome io sono ancora normale ti dico figlio mio non ti posso rispondere sei d'accordo Luca? Bene. Questa è l'infermeria oltre dei santi si chiama che ne abbiamo tanti ne abbiamo tanti parola d'onore ne abbiamo tanti però vediamo di recuperare qualcuno poi vederete nei convocati me ne abbiamo tanti parola d'onore. Grazie. Prego. Luca te l'ho risposto bene? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.